buongiorno a tutti buona domenica domenica trenta agosto una spina nel fianco oggi parliamo del business delle mascherine allora la mascherina ormai l'abbiamo declinata ampiamente come simbolo e eletta soprattutto al simbolo della lobotomizzazione del controllo della persona del mezzo eh psicologico sicuramente di sottomissione delle masse a livello mondiale però voglio raccontarvi una cosa ieri ho avuto la possibilità di parlare con una persona che lavora nella filiera di eh industrializzazione della mascherina e eh mi ha spiegato una serie di particolari che mi hanno illuminato e ve li propongo eh sì la mascherina è il mezzo utilizzato per il controllo delle masse per la copertura del volto per tutta una serie di eh ragionamenti azioni e finalità certamente psicologiche o dittatoriali forse ma è soprattutto un business economico abbiamo ragionato sul costo della materia prima abbiamo ragionato su un'ipotesi di produzione di numero di mascherine questa eh la mutanda questa qua e abbiamo dedotto si sta scurendo tutto qui perché sta arrivando un temporale eh abbiamo dedotto come eh una mascherina il rapporto mascherina costo mascherina ricavo superi il rapporto uno a cento aspettate che accendo un faro aspettate a cento aspettate che bene tornata la luce allora ricominciamo ricominciamo scusate la diretta e il bello rapporto costo ricavo cento adesso cioè cento volte considerate ecco perché a un certo punto tutti i nostri politici hanno martellato sulla mascherina sono comparsi imbavagliati vi ricordate tra la fine di aprile e maggio fu comunicato che Fiat FCA ma non solo anche Luxottica avrebbe ospitato le macchine di trasformazione di produzione delle mascherine le notizie parlavano di ospitalità no quella non è ospitalità quelle business cento volte io sfido chiunque a trovare nel mercato legale e illegale un prodotto che dia cento come moltiplicatore di ricavo su base costo non esiste non esiste neanche il traffico di stupefacenti genera cento non esiste ecco perché tutta questa voglia questa questa spinta sulla mascherina sono i soldi con la mascherina questi ci hanno risanato l'economia mondiale che era inchiodata inchiodata e pensate che le macchine per la produzione di questa merda sono obbligatoriamente cinesi cinesi e il gioco è fatto il cerchio è chiuso chi utilizza questa roba qua è complice di una truffa chi utilizza questa roba qua ma non nella qualità proprio il simbolo la mascherina è un complice lobotomizzato idiota questa roba qui non protegge da nulla anzi se la guardate bene prendetene una questa non è mai stata mai utilizzata guardatela non so se riesco a farvi vedere la peluria che c'è all'interno non so se si nota questa roba qui dopo qualche minuto qualche ora di utilizzo è tutta roba che si stacca e va dentro i nostri polmoni ok la salute non c'entra nulla con questa roba qui è business immaginatevi soltanto che con l'obbligatorietà sui bambini che devono cambiarla una volta al giorno si è calcolato un consumo di undici milioni al giorno solo sui bambini cioè una mascherina genera c'è un ricavo pa che supera le cento volte il costo ci rendiamo sfido se c'è qualcuno che vuole smentirmi se c'è qualcuno che si occupa di questa roba qua venga in diretta con me mi scrive e mi dica che non è vero mi dica che non è vero cento volte neanche la droga neanche il il l'usura neanche il riciclaggio neanche lo sfruttamento della prostituzione cento volte questi hanno trovato il business per tutti se lo sono inventato su una emergenza sanitaria che non c'è che c'è per questa roba qua condividete questa diretta cento volte sulle spalle nostre noi non ce ne accorgiamo perché questa roba qui non costa un cazzo non costa nulla quindi siccome poi non costa nulla le buttiamo e poi sulla base del buttare ci siamo mai chiesti come vengono smaltite queste ci sono i binari della stazione di cadorna delle ferrovie nord cadorna a milano che sono un tappeto di mascherine questo è un presidio medico questo andrebbe è un rifiuto speciale andrebbe smaltito come rifiuto speciale quindi c'è anche questa argomentazione da mettere dentro il calderone e noi lobotomizzati idioti col cervello spento le indossiamo le indossiamo per far fare business sulla nostra vita sulla nostra salute sulla salute dei nostri figli perché siamo una massa di rincoglioniti è chiaro questo è questa la verità cento volte produce un ricarico pari a cento volte il costo cento volte il business del secolo il business del secolo e quindi quanto durerà sta roba che cosa si devono inventare per produrre questo supera il business dei vaccini questa roba qua supera il business dei vaccini il vero business legato al coronavirus è la museruola la museruola questa merda qua questa merda qua condividete questa diretta lo chiedo raramente cento volte il costo di produzione ci vediamo domani mattina alle 10 un abbraccio a voi tutti buona domenica a voi e alle vostre famiglie